In questo tempo chiedo a tutti i consiglieri di Sputato Subanti, chiedo quindi anche all'ignoranza e a Chiara, insieme al consigliere Ciri, a Chiara e chiederò anche alle altre persone di questo concorso di libero e poi perché abbia un'annunzione di scatto a un po' di pieno perché sia davvero la discussione di tutto così come una riappata che si muove un impatto insieme alla popolazione e adesso questa riferimento. Non c'è una parola, 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 non c'è una parola. Noi ci rendiamo conto che ci sta vivendo con l'invito di Sputato, come l'Italia ha risposto a un'attività che si può essere fatta con la realtà sicuramente nelle buonanze di Sputato, ma riteniamo anche, nel momento abbiamo cercato di dirlo, che ci deve fare essere, a parte di una prima operazione, per sede di elaborazione di cittadini sicuramente, ma anche di sede concreta di azioni, di invenzioni e di proposte, ci deve essere qualcosa di più pratico e di più concreto, questa è una situazione che potrebbe interessare a questo semplicello, c'è il posto del generale, come diciamo a un lavoro, e che quindi questo territorio dovrà in qualche modo gestire la comunità, quindi io credo che quando riguarda un'altra parte, una mia notizia scritta, abbiamo più poco, e quindi abbiamo i miei colleghi faccio questa emigianza, noi abbiamo scopo un tipo diverso di deliria, perché credendo quella che secondo noi, e la storia che è stata cominciata, l'inistrazione del 2005, che è il sensativo di difendere la completezza degli interventi, quella che è la realtà in cui viviamo, sia la conoscenza di migliore per cui ci si rivolta, non è un problema, 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 ma dato che rispettiamo le opinioni di tutti, all'interno di questo Consiglio Comunale, come riserva di questo Consiglio Comunale, disegniamo di non poter accogliere l'indico del sindaco, che si rivolgono a tutti, quindi non potremo inammorare il risultato, perché non ritenevamo più adatto, e non conoscere questo rispetto a questo rispetto, che è la mia notizia. Grazie. Allora. Allora, vedete?